Le strade del quartiere Villaggio Aldisio vennero per diverso tempo monitorate dai poliziotti del commissariato al punto da dar vita a due diverse operazioni, sempre sul fronte del contrasto allo spaccio di droga. Al termine del dibattimento di primo grado scaturito dalla Blitz Villaggio Aldisio II, il PM Tiziana Di Pietro ha chiesto la condanna per 17 imputati, solo tre le richieste di assoluzione formulate per Antonio Radicia, Alessio Tallarita e Luca Incorvaia. Per il pubblico ministero, negli altri casi, sarebbe stata approvata la disponibilità di droga e l'attività di vendita, video ripresa dagli investigatori che avevano concentrato le loro attenzioni sul quartiere. Gli imputati vennero intercettati anche con ambientali. Tre anni di reclusione sono stati chiesti per Aristide Tascone e Cristian Catalano, due anni per Luigi Di Noto e Nunzio Di Noto, un anno e otto mesi a Benedetto Curva, nove mesi a Calogero Razio Peritore e Danilo Radosta, otto mesi per Nicola Alessio Comandatore, Ciro Schiattarella, sei mesi a Gerico Antonio Tallarita, Bartolo Scrivano, Giuseppe Baccaro, Ignazio Brivitello, Nunzio Esposito Ferrara ed Ernesto Privato. Quattro anni ad Alessio Balbi e Andrea Sorrentino. Gran parte delle contestazioni sono state derubricate nelle ipotesi meno gravi. La decisione del giudice Mari Camarino arriverà al termine della prossima udienza. i difensori hanno respinto la ricostruzione di indagini escludendo che gli imputati siano mai stati coinvolti nello spaccio di droga.